Fai qui con noi. Non hai sentito cosa ha detto papà? Si dice che gli irlandesi hanno il senso dell'ospitalità. Insomma, a me non mi ispira fiducia quel tipo. Perché? Non è abbastanza raffinato come il tuo caro Paul? Basta, ragazze! Adesso basta! Ma io sono... Ma... Basta parlare di quei due stranieri. Allora? Sono Dao Molloy. Che imbecille. Fate venire quell'idiota di Archer. Le do una mano? No, no, faccio io, grazie. Mi lasci fare, non è un lavoro da donna. Qui da noi lavorano tutti. Da noi in Francia le belle donne non fanno lavori da uomo. Dov'è il suo amico? Napoleone sta parlando ai cavalli. Non sono mai stati chiusi in un recinto e sono nervosi. Napoleone? È uno strano nome per un indiano. Napoleone è uno strano indiano. Un convoglio! C'è un convoglio sulla pista! Attenzione, Tim! Non cadere! Che succede? C'è un convoglio sulla pista! Ah! C'è un convoglio! Un sacco di carri! Sono allo sbocco della pista! È Bull! C'è un volto. C'è un miss.